Si è svolto martedì 24 aprile presso il campo sportivo comunale Paolo Poli in memoria nel primo anniversario della scomparsa della studentessa Annalisa Romano. Al triangolare studentesco di calcio organizzato con il patrocinio del comune di Molfetta nell'ambito del progetto gioco a scuola hanno partecipato gli studenti dell'istituto tecnico commerciale Gaetano Salvemini di Molfetta, dell'istituto tecnico commerciale dell'olio di Biceglie e dell'istituto tecnico industriale Ferrares di Molfetta. Il memorial è stata l'occasione per creare un momento di festa nel ricordo di una giovane vita felice come era quella di Annalisa tramite una semplice e amichevole partita di calcio. Abbiamo ascoltato ricordi dei parenti che hanno rievocato la sua voglia di vivere e di lottare e gli amici che hanno rivolto un emozionante saluto ad Annalisa. Attraverso questa manifestazione qual è la comunicazione che deve aggiungere ai giovani? Noi abbiamo ricordato Annalisa l'anno scorso piantando un albero e quest'anno abbiamo aggiunto sotto quell'albero una targa che dice le tue radici rimangono sempre qui. Abbiamo bisogno di radicarci nel ricordo delle persone, abbiamo bisogno di farle rimanere in mezzo a noi. Annalisa è rimasta in mezzo a noi e oggi la vogliamo ricordare con un confronto sportivo tra squadre che fanno riferimento un po' al contesto di Annalisa, la sua scuola, la nostra scuola, il Salvemini ma anche l'ITC dell'olio di Biceglie in cui la mamma di Annalisa insegna e l'industriale, il Galileo Ferraris di Molfet. Cosa volete dire ai giovani in nome di Annalisa? Annalisa era mia nipote e posso solo ricordarvi quello che mi diste la sera prima di perdere coscienza. Si avvicinava il tempo dell'esame e doveva preparare la tesina, doveva prepararsi per l'esame e la sera prima io le dissi Annalisa ricordati che appena stai meglio dobbiamo studiare, dobbiamo preparare qualche cosa e lei mi disse sì zio appena starò meglio, mi impegno, faremo insieme qualche cosa a dimostrare che anche nell'estrema sofferenza lei era quasi cosciente di quello che le sarebbe capitato, comunque ci teneva ad arrivare al diploma in maniera preparata. È un po' un invito a tutti i ragazzi di non abbandonare mai la speranza nello studio perché anche nelle estreme situazioni, nelle situazioni più brutte, quelle che uno non vorrebbe mai vivere, comunque l'impegno nello studio, l'impegno nel lavoro è sempre una cosa fondamentale per un giovane. Da che partita l'iniziativa di questa partita in ricordo di Annalisa? Allora questa iniziativa è partita da me, grazie all'aiuto del professor Mancini e del preside Sabino Lafasciano è stato possibile realizzare tutto ciò che credo che è meglio di così, almeno per il primo anno non si poteva fare e quindi voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e chi ha dato una mano a rendere tutto ciò possibile. Da cosa nasce questo progetto? Allora il progetto Gioca Scuola XAIN nasce dalla volontà del nostro ente di promozione sportiva di promuovere lo sport anche nelle scuole sia primarie e secondarie, in questo caso dell'industriale. Anzi vi anticipo che quasi sicuramente la squadra sia dell'industriale che del Salvemini parteciperà alle finali nazionali nostre di calcio a 11 a Riccione a settembre. Cosa volete dire ai giovani in nome di Annalisa? Che devono vivere, devono vivere la vita, non si devono lasciar prendere da falsi euforismi, falsi euforismi, false gioie, ma credere nella vita, impegnarsi, crescere e avere consapevolezza di tutto quello che fanno. Cosa vi è rimasto di Annalisa? Il suo coraggio, la sua voglia di vivere, l'affrontare il tutto come se fosse un gioco senza mai far pesare nulla sugli altri. Un saluto alla rondine e dai riflessi ramati. Ciao Annalisa!